Un'opportunità per infermieri, tecnici e altri professionisti di esercitare la libera professione fuori dall'orario di lavoro nelle strutture pubbliche, obiettivo di una proposta di legge regionale condivisa dalla Federazione Sindacati Indipendenti, che punta a contrastare il lavoro nero e ad offrire una possibilità di autonomia per ora concessa in sostanza solo ai medici. Queste e altre iniziative sono state presentate all'ospedale Santimotio di Termoli, dove è stato ribadito anche l'impegno del sindacato rispetto ai tagli dei servizi a un basso molise già penalizzato dal piano di riordino sanitario. Noi abbiamo presentato tre proposte di legge. Abbiamo presentato la proposta di legge alla Camera, quella per quanto riguarda gli operatori sanitario con l'obiettivo di riqualifica di questo personale dal ruolo tecnico al ruolo sanitario. La seconda proposta è il discorso dell'infermiera di famiglia, cioè avere l'opportunità di un'assistenza direttamente sul territorio per evitare anche i ricoveri impropri, direttamente da parte dell'infermiere. La terza è quella della libera professione, di tutte le professioni sanitarie, mi intendo infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, fisioterapisti, tutte le professioni sanitarie per quanto riguarda la 43. All'incontro sono intervenuti Nicola Cifelli, segretario provinciale di Sernia e la coordinatrice regionale Fernanda Di Guglielmo, che ha presentato anche la raccolta di firme e la campagna informativa della proposta di legge. La procedura è stata fatta a livello nazionale con la federazione nostra sindacale, che è la FSI, Federazione dei Sindacati Indipendenti, e poi presentata in tutte le regioni d'Italia, compresa la regione Molise. A tal proposito vorrei ringraziare il consigliere Iorio che si è prestato, perché noi abbiamo dato la proposta a lui, che ha presentato già al consiglio regionale.